Il Tribunale Costituzionale Spagnolo ha deciso di sospendere la seduta del Parlamento Catalano prevista per lunedì, quella durante la quale il Presidente Puigdemont avrebbe potuto annunciare la dichiarazione di indipendenza e per paura della secessione molte banche sono pronte a lasciare la sede di Barcellona. Sale il numero dei parlamentari che aderiscono allo sciopero della fame che vuole sollecitare l'approvazione della legge sullo Iussoli prima della fine della legislatura. Fra di loro c'è anche Graziano Del Rio, una decisione presa da cittadino, proviamo a votare questa legge e se non c'è maggioranza, Amen spiega il Ministro delle Infrastrutture che diventa però bersaglio delle polemiche da parte di Forza Italia e Lega che parlano di un ridicolo spot elettorale. Le autorità brasiliane hanno confermato l'arresto di Cesare Battisti fermato due giorni fa mentre cercava di fuggire in Bolivia. L'ex terrorista non teme l'estradizione in Italia perché protetto, dice, da un visto permanente firmato dall'ex Presidente Lula, determinati a far sì che Battisti sconti la sua pena nel nostro paese, la replica dei ministri Orlando e Alfano. Questa sera a Torino il penultimo impegno della Nazionale di Calcio per le qualificazioni mondiali dell'anno prossimo in Russia. Gli azzurri affrontano la Macedonia battuta all'andata per 3 a 2, sapendo che basterà un punto per avere la certezza di qualificarsi per gli spareggi in programma il prossimo mese. Buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Allora, l'attenzione politica fra Madrid e Barcellona resta altissima sull'ipotesi di indipendenza della Catalogna. C'è stata una nuova mossa da parte di Madrid. Ieri la Corte Costituzionale infatti ha sospeso la riunione del Parlamento che si doveva riunire all'inizio della prossima settimana. Quindi è un nuovo elemento fortemente divisivo. Questo, mentre cominciano anche le preoccupazioni economiche, le banche, le principali banche che hanno sede in Catalogna, stanno pensando di spostare la loro sede fuori da quella regione. La sentenza della Corte Suprema Spagnola, che sospende la sessione plenaria del Parlamento catalano, convocata ufficiosamente per lunedì prossimo, arriva direttamente sul tavolo della Presidente Carmen Forcadell, imponendole di impedire o paralizzare qualsiasi atto che cerchi di eludere la chiusura dell'Assemblea sotto la minaccia di gravi conseguenze penali. Nella risposta si legge la sfida aperta della Catalogna alla decisione dell'Alta Corte. Di fatto, si ripete quanto è accaduto in passato con la sentenza che cercava di inibire il referendum. Le parole di questi giudici dimostrano che siamo davanti ad un tribunale politicizzato, spiega la Forcadell. È assolutamente delegittimato. Il mio lavoro è garantire e preservare la libertà d'espressione del diritto d'iniziativa dei deputati. Dunque, se parte dei gruppi parlamentari le chiederanno di convocare una seduta, la Presidente lo farà. Ed infatti per trovare ad aggirare l'ostacolo, i partiti indipendentisti hanno già presentato una nuova proposta, sempre per lunedì prossimo, sempre per un intervento del Presidente dell'Autonomia, Puigdemont, ma usando l'escamotaggio di non fare riferimento al referendum, come dire nulla di incostituzionale. Madrid dovrà dunque prepararsi ad imporre la decisione dei giudici dell'Alta Corte con ogni mezzo a sua disposizione, anche con la forza e probabilmente con il ritorno per le strade della Guardia Civil perché nel Palazzo della Generalità finiscono di nuovo nel vuoto le ultime parole del premio spagnolo Mariano Rajoy, secondo il quale per evitare mali peggiori la Catalogna deve rinunciare immediatamente a dichiarare unilateralmente la sua indipendenza e tornare nell'alveo della legge. Nel frattempo il terremoto istituzionale in corso a dichiarazione di indipendenza non ancora avvenuta ha portato un primo danno alla Catalogna. Ieri la quarta banca di Spagna, Sabadell, un'istituzione locale, il nome deriva da un paese ad un'ora di macchina da Barcellona, ha deciso di abbandonare la comunità autonoma ribelle per trasferirsi ad Alicante. Sabadell teme che rimanere in un paese non riconosciuto dall'Europa la obblighi a dire addio all'euro con tutti i privilegi ed i meccanismi di garanzia del sistema bancario dell'Unione, incluso il rapporto con la banca centrale. Subito dopo toccherà a Caixa che si riunisce oggi appositamente per lei. Madrid sta avvarando un decreto per facilitarle il cambio di sede e mettere in questo modo ancora più pressione sul governo catalano. E motivo di tensione sarà sicuramente oggi anche l'interrogatorio del capo dei Mossos, la polizia catalana accusato di sedizione. Veniamo alla politica oggi, riunione della direzione del PD parlerà a Renzi e farà il punto sia sulla legge di bilancio sia sulle nuove regole, sulla nuova legge elettorale attualmente in discussione. Ma altro tema che si sta imponendo in queste ore è lo sciopero della fame di diversi parlamentari per approvare entro il termine della legislatura, la legge sullo Ius Soli. Un sciopero della fame a staffetta per chiedere la legge sullo Ius Soli per conferire la cittadinanza italiana ai figli degli immigrati regolari nati in Italia. C'è anche un ministro ed è la prima volta. Si tratta del cattolico Graziano Del Rio che ora spiega lo faccio sperando che tutti capiscano. La decisione lo espone agli attacchi delle opposizioni. Per la Lega si tratta di un ridicolo spot elettorale. La risposta del ministro? Questa è un'iniziativa pacata, agisco come cittadino perché dopo tante parole urlate è giunto il momento di far parlare i gesti. L'idea dell'assenzione del cibo a staffetta è stata lanciata da 900 insegnanti per difendere una legge che sembrava sul traguardo e che poi invece è finita su un binario morto. La normativa è osteggiata da tutto il centrodestra ma è ostacolata anche da una parte della maggioranza i centristi di alternativa popolare. Alfano infatti è convinto che ora non sia il momento per approvare una legge del genere che sarebbe un regalo alla Rega Nord. Eppure c'è chi non si arrende. E così in Senato è scatata una raccolta trasversale di firme mentre l'iniziativa di giuno a staffetta sta raccogliendo adesioni eccellenti tra i parlamentari Luigi Manconi e Franco Monaco, Vanino Chiti ed Elena Ferrara, Paolo Corsini, Michele Piras, Sandra Zampa e Loredana De Petris. Complessivamente sono una sessantina. Ma ci sono anche esponenti del governo, insieme a Graziano Del Rio, i viceministri Mario Giro e Andrea Olivero e i sottosegretari Benedetto della Vedova e Angelo Rughetti. Anche se la più clamorosa è la decisione del ministro. Renato Brunetta, Forza Italia, infatti ironizza. Lo vedo già magro di suo, non capisco come un uomo di potere possa fare uno sciopero contro se stesso. Ma in molti apprezzano l'iniziativa individuale del ministro e chiedono che non si lasci nulla l'intentato per l'approvazione della legge, anche se questa dovesse incidere negativamente sull'esito del voto del 2018. E così nel gruppo PD al Senato si sta discutendo se far approdare in aula la legge prima della legge di stabilità, ma si potrà arrivare a chiedere la fiducia sul provvedimento solo se ci saranno i numeri, che al momento mancano perché gli alfagnani chiedono modifiche. E poi c'è il caso Battisti, è una guerra di dichiarazione a distanza. Battisti dice non sarò estradato dal Brasile, nonostante l'arresto, replicano dall'Italia i nostri ministri della giustizia e degli esteri, faremo di tutto perché ciò accada e ci stiamo lavorando. Cesare Battisti resterà in carcere, lo ha deciso il giudice federale Odiglion de Oliveira. Il magistrato ha ritenuto quindi che ci fossero i presupposti per la custodia cautelare. L'udienza si è svolta in videoconferenza nella sede della Polizia federale. L'ex terrorista italiana era stato ufficialmente fermato due giorni fa al confine tra il Brasile e la Bolivia, era in compagnia di due amici. È stato bloccato solo per eccesso di valuta straniera, aveva con sé 6.000 dollari e 1.300 euro. Ma dal verbale emergerebbe anche un altro piccolo particolare. Nell'auto su cui viaggiava è stato ritrovato un piccolo contenitore arancione con dentro un residuo di polvere biancastra ancora da analizzare. Forse cocaina? Lo si saprà tra pochi giorni. Dal carcere di Corumbà, la città di frontiera dove è stato fermato Battisti sfida l'Italia. Non temo l'estradizione, ha detto. L'ex membro dei proletari armati per il comunismo ostenta sicurezza nonostante l'attuale richiesta dello Stato italiano. Battisti ritiene di essere protetto da un decreto dell'ex presidente brasiliano Lula che gli ha concesso un visto permanente il 31 dicembre del 2010. La trattativa per l'estradizione è in atto, ha messo il ministro degli esteri, Angelino Alfano. Guarda sigilli Andrea Orlando ha spiegato che l'Italia è fortemente determinata a far sì che Battisti sconti la sua pena nel nostro paese anche per restituire ciò che è stato tolto alla nostra comunità e ciò che è stato inflitto alle vittime del terrorismo. E poi ha aggiunto l'estradizione è possibile, ci sono tutti i presupposti perché questa sia realizzata. Ora è tutto nelle mani del presidente brasiliano Temer. L'Ox punta il dito su uno dei grandi problemi dell'Italia, il cattivo rapporto fra mondo della scuola e dell'istruzione e mondo del lavoro. E poi dice una cosa che ci deve far riflettere, i nostri laureati sono troppo pochi, male utilizzati e in qualche caso anche poco preparati. Skills mismatch, due parole che vanno al cuore del malfunzionamento del mercato del lavoro italiano secondo l'Ox che ieri ha diffuso il suo rapporto dal titolo Strategia per le competenze e proprio come divario tra le competenze offerte dal lavoratore e quelle richieste dalle aziende si può tradurre in italiano quel termine inglese. Le 280 pagine del report dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico frutto di due anni di lavoro ruotano sostanzialmente attorno a questo concetto che spiega perché in Italia offerta e domanda di lavoro facciano fatica a incontrarsi. E lo fa a partire dal pressoché assente collegamento tra istruzione e mondo del lavoro aggravato dal basso numero di laureati rispetto agli altri paesi avanzati. In Italia infatti solo il 20% della popolazione con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni è laureata contro una media OX del 30%. In più questi pochi laureati in molti casi non hanno le competenze richieste dalle aziende, malgrado ciò spessissimo. I giovani laureati che trovano lavoro o svolgono mansioni che richiedono meno competenze rispetto a quelle che hanno o sono sovraqualificati. Inoltre addirittura nel 35% dei casi hanno un'occupazione che nulla ha a che fare con il loro percorso di studi. Paradossalmente però il nostro paese esporta i suoi laureati alla ricerca di retribuzioni migliori già perché in Italia il rialzo dello stipendio garantito dalla laurea è inferiore di 15 punti rispetto alla media OX. Una situazione aggravata dagli scarsi investimenti pubblici in formazione e nelle politiche attive del lavoro. Secondo l'organizzazione parigina però il nostro paese sta cercando di attuare riforme che invertano la tendenza come ad esempio Jobs Act, il programma Garanzia Giovani, il piano Industria 4.0, la riforma della pubblica amministrazione e la buona scuola della quale si mette in evidenza l'alternanza scuola-lavoro e il piano per il digitale. Andiamo negli Stati Uniti dove proseguono le indagini sul killer, su Paddock, Stephen Paddock, il killer di Las Vegas, l'uomo che ha letteralmente sterminato i giovani che stavano assistendo a un concerto country. Ebbene escono nuovi particolari. Intanto si cercano i complici, si parla di una donna che era nella stanza d'albergo insieme all'uomo e poi si sospetta che Paddock avesse in animo altre iniziative come quella di Las Vegas o addirittura di far esplodere un'autobomba. Dopo la strage di Las Vegas negli Stati Uniti si pensa ad una limitazione nell'uso delle armi automatiche. Nel mirino finisce l'accessorio utilizzato dal killer per potenziare le armi semi-automatiche e l'amministrazione USA sta considerando l'ipotesi di vietarlo. Esamineremo la cosa breve, ha assicurato il presidente Trump dopo la visita a Lampo in Nevada. Ipotesi che ha incazzato un sostegno bipartisan ma soprattutto un'apertura della potente lobby delle armi sulla regolamentazione di questo accessorio. Intanto sul fronte delle indagini cresce il sospetto che il 64enne Steven Paddock abbia avuto altri complici. L'organizzazione della strage, il trasporto delle armi, più di 20 fucili di precisione sono stati trovati nella stanza del Mandala Bay di Las Vegas. L'installazione delle telecamere, tutto troppo perfetto per un 64enne pensionato con la passione del gioco d'azzardo. Non solo, dalle indagini emerge come Paddock avesse pianificato un'altra carneficina, obiettivo due mesi fa a Chicago un festival rock. Intanto dall'ISIS arriva una nuova rivendicazione, sostenendo che Paddock si era convertito sei mesi fa. Oh, allora, nei rapporti fra Stati Uniti e Corea sembra esserci una fase di relativa quiete, nel senso che evidentemente è partita qualche iniziativa diplomatica sotterranea che forse, speriamo tutti, possa dare qualche frutto. È tornato invece il Presidente Trump giovedì prossimo, tre giorni prima della scadenza per certificare o meno il rispetto dell'intesa, annuncerà il nuovo strappo con gli Ayatollah. Il regime iraniano, ha spiegato Trump, sostiene il terrorismo ed esporta violenza, spargimenti di sangue e caos nel Medio Oriente. Questo è il motivo per cui dobbiamo mettere fine alle continue aggressioni e alle ambizioni nucleari dell'Iran. La mancata certificazione del capo della Casa Bianca del rispetto dell'accordo sul nucleare da parte dell'Iran, sostenendo che non è nell'interesse degli Stati Uniti, significa che a dare al Congresso 60 giorni per decidere il ripristino delle sanzioni revocate due anni fa. Per il momento però, Trump ha assicurato che chiederà a senatori e deputati di non ripristinare tali sanzioni, lasciando così una porta aperta a nuovi negoziati. Grazie all'accordo, aveva detto allora un trionfante Obama, la comunità internazionale potrà verificare che l'Iran non sviluppi l'arma atomica. Teheran sarà privata del 98% delle sue attuali riserve di uranio arricchito. Se però l'Iran ne violerà i contenuti, tutte le sanzioni saranno ripristinate e ci saranno serie conseguenze. Ed è proprio per quella firma storica di cui si era fatta attiva promotrice che oggi l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché vicepresidente della Commissione europea Federica Mogherini, potrebbe giudicarsi il Nobel per la pace. E già, c'è molta attesa per l'annuncio che arriverà oggi da Oslo e poi ci sono tanti altri concorrenti insieme concorrenti, potenziali vincitori insieme alla Mogherini. C'è Papa Francesco, c'è la Merkel, c'è Townsend, c'è l'alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite. Intanto, ieri è arrivato il Nobel per la letteratura e al giapponese che vive in Gran Bretagna, Kazuo Ishiguro. Nella storia di quel maggiordomo irreprensibile, Mr. Stevens, interpretato nel film alla perfezione da Anthony Hopkins, una storia di autismo sentimentale e di controllo delle emozioni dove la sostanza si vedeva nella forma, c'erano tanto la cultura giapponese che quella inglese in armonia quasi perfetta. Quel che resta del giorno, trasposto sullo schermo nel 1993 da James Ivory, è considerato da molti il migliore dei romanzi di Kazuo Ishiguro, fresco, freschissimo Nobel per la letteratura. Quel romanzo, vincitore tra l'altro del prestigioso Booker Prize, resta, di questo scrittore giapponese di nascita, ma cresciuto in Inghilterra, se non il migliore, di sicuro il più famoso. E di Ishiguro due cose si possono dire ora con certezza. Scrive romanzi e non canzoni come Bob Dylan, cui andò il premio lo scorso anno, scatenando anche troppe polemiche. E non è sconosciuto ai più, come molti dei premiati degli anni recenti. Una decina, i suoi romanzi tradotti in Italia, che siano ambientati in tempi rimoti o no, insistono sempre sugli stessi temi. La fallibilità è il ruolo della memoria, la dimensione onirica è quella nostalgica dell'esistenza, il dolore del tempo che passa e della perdita. Una scrittura che si muove con eleganza su spostamenti impercettibili dell'animo. Non per nulla la motivazione parla di una grande forza emotiva, della scoperta dell'abisso sotto il nostro illusorio senso di connessione con il mondo. E connesso con il mondo, o almeno con l'Accademia svedese, Ishiguro ha dimostrato di esserlo molto di più di Bob Dylan, che in quanto ai rapporti con Stoccolma rimase lo scorso anno sotto il minimo indispensabile. In una cosa però il Nobel letterario si conferma in linea col passato nel prendersi gioco di ogni previsione. Il nome di Ishiguro non figurava infatti nessuna delle solite liste in giro alla vigilia. Siamo allo sport, calcio. Questa sera la nazionale è impegnata a Torino contro la Macedonia. Serve almeno un pareggio per andare alle gare di spareggio, scusate il gioco di parole, per andare ai mondiali. Una vittoria per avere la certezza di entrare tra le otto nazionali che si giocheranno il pass per i mondiali attraverso gli spareggi di novembre. E' questo l'obiettivo dell'Italia. Sfumata la qualificazione diretta dopo la sconfitta di settembre contro la Spagna, gli azzurri puntano a battere la Macedonia anche per cancellare i tre gol subiti a Madrid. Il pareggio blinderebbe il secondo posto, ma in vista del sorteggio play-off sarebbe molto meglio fare bottino pieno per migliorare il ranking. Io dal primo giorno che ho messo piede nazionale siamo andati a giocare in Israele e c'era l'obbligo di vincere. Poi abbiamo giocato in Macedonia e c'era l'obbligo di vincere. C'è sempre stato l'obbligo di vincere, non c'è stata una partita. Persino nelle amichevoli ci avevamo l'obbligo di vincere perché dovevamo dimostrare di voler crescere. Quindi non è cambiato molto. Pochi calcoli dunque. È Italia molto offensiva, quella che vedremo stasera allo stadio Grande Torino, la vecchia casa del CT Ventura per cinque stagioni sulla panchina Granata. I tanti infortuni lo costringeranno a cambiare modulo passando dal 4-2-4 al 3-4-3. Davanti a Buffon tornerà dopo 13 mesi la storica BBC Barzagli-Bonucci-Chiellini, mentre gli esterni di centrocampo saranno Zappacosta e Darmian, con Parolo al fianco di Gagliardini al debutto da titolare. Esordio dal primo minuto anche per il bolognese Verdi, schierato nel tridente d'attacco con immobile e insignie. Le assenze di Belotti, Verratti, De Rossi, Marchisio e Pellegrini non devono costituire un alibi. La Macedonia non è l'avversario più pericoloso del girone, ma nessuno ha dimenticato le difficoltà degli azzurri nella gara di andata, vinta per 3-2 nei minuti di recupero. Sappiamo che l'Italia è una grande squadra, ci aspetta una sfida complicata, ma siamo pronti, avverte Goran Pandev, una carriera spesa quasi tutta nel nostro calcio, dove giocano anche tra Icoschi e Nestorowski, in forza al Palermo. Fra poco Paolo sotto corona con le previsioni meteorologiche, subito dopo c'è Omnibus. Gli ospiti di Alessandra Sardoni sono Fabio Martini e ancora Vanda Marra, Alessandra Moretti, Gianluca Pini, Lorenzo Pregliasco, Pietro Senaldi e Elisa Simoni. 13.30 alla prossima edizione del telegiornale. Noi ci vediamo domattina alle 7 con Omnibus News. Grazie e arrivederci.